Fratello Giuseppe, i musulmani, tra i quali abbiamo molti amici, fanno fatica a capire che Gesù è salvatore anche di loro. Qual è la differenza principale, secondo te, tra le due religioni? Ma guarda, la differenza non dovrebbe essere tantissima, perché, vabbè, Mahomet ha copiato la Bibbia e si è dimenticato di copiare il Vangelo. Ha copiato solo il Vecchio Testamento, principalmente. Eppure il Corano dice che il Vangelo è mandato da Dio. Sì, dice questo. Però anche le religioni cristiane dicono, dicono, poi fanno le crociate, fanno l'inquisizione, la guerra tra protestanti e cattolici per secoli. C'è un conto quello che uno dice, un conto quello che uno fa. Guarda, per chi non lo sa, in Sura 5, 46, dice il Vangelo viene da Dio, nel Vangelo c'è guida e luce. Ecco, però poi Mahomet ha detto anche delle cose contraddittorie, ha detto, però non fate amicisti a quei cristiani, ha detto, e neanche con gli ebrei, quindi è una contraddizione. Quindi, guarda, andiamo in Isaia 53, che vediamo la principale differenza qua, 12. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi. Sta parlando del Messia. Ed egli dividerà il bottino con i potenti. Sta parlando della conquista mondiale di Cristo. Perché ha versato la sua vita fino a morire, ed è stato annoverato fra i malfattori. È morto come peccatori per pagare per i nostri peccati. E gli ha portato il peccato di molti, e ha interceduto per i trasgressori. Isaia 53, verso 12. Ecco, il problema è che uno che non ha lo Spirito Santo non può capire queste cose. Cioè, com'è che intercede? Com'è che ci salva? Mahomet dice, qua la spada, ammazzo tutti quelli che non sono d'accordo, ho risolto il problema. D'accordo, ma ha tramutato il regno di Dio, il mondo, in un grande cimitero. Non puoi continuare sempre a uccidere, 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 uccidere. Va bene. E adesso c'è la guerra a Gaza. Va bene che gli ebrei hanno ucciso 40.000. Perché i musulmani hanno ucciso un migliaio. E quindi, giustamente, i musulmani si lamentano. E così non si fa. E non si deve fare così. Però, in certo senso, è quello che Mahomet ha fatto. E' andato in tante nazioni, ha conquistato, ha ucciso tutti. Oh. Va bene. E ha messo l'Islam. Quindi, in certo senso, è lo stesso ragionamento. Arriva Gesù e dice, no, adesso ci si perdona. Vi perdonate, vi amate, come io vi ho mostrato. Cioè, con l'esempio. Amen. Va bene. Allora, questo dice Ia 53, 12. Dove dice, ha interceduto per i trasgressori, ha dato la sua vita per salvarli. Adempiuto in Luca 23, 34. Ancerina. Luca 23, 34. E Gesù diceva, padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Luca 23, 34. Allora, il Dio che ha mandato fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra, e ha mandato il diluvio universale, e che manderà nel fuoco eterno chi persiste a respingere la sua salvezza. Questo Dio non ha bisogno della spada di Maometto. Dio non ha bisogno delle stragi che stanno facendo gli ebrei a Gaza. Sì. Non ha bisogno di questo. Non ha bisogno di conquistare il mondo col terrore dell'Islam o conquistare Gaza col terrore degli ebrei. Cioè, oppure le crociate cristiane, cioè andare a portare il terrore a Gerusalemme e uccidere tutti qua. Dio non ha bisogno di queste cose. Dio ha conquistato il mondo con l'amore, il perdono, la misericordia di Cristo e di quei cristiani veri, cioè che sono molto pochi per la verità, che le religioni cristiane tradizionali, insomma, sono quello che sono, ma sono molto diverse dal Vangelo. E allora, il Vangelo dell'amore di Gesù ha portato l'amore e ha mostrato che la soluzione al mondo è convertire i cattivi, convertire i nemici, cosa che i cristiani, i missionari, gli apostoli, i veri cristiani durante i secoli hanno sempre fatto. Ovunque sono andato, a parte è pizzarro questo falso cristiano che è andato in Sud America, ha ucciso un sacco di gente. Sì, sono andato lì in nome della croce, ma per loro la croce era incassare l'oro e il denaro. Ma i veri missionari che sono andati in giro per il mondo sono andati in amore, hanno messo degli ospedali, hanno fatto delle scuole, hanno aiutato, hanno portato aiuti, hanno portato cibo. Con l'amore hanno convertito il mondo. Quindi Dio non ha bisogno della spada di Pizzarro, della spada di Maometo, cioè gli ebrei stanno aspettando un Messia con la spada di Davide che uccide tutti gli islamici. Non avverrà, non sarà così. Il Cristo verrà a convertire gli islamici con l'amore. I cristiani oggi nel mondo, stragrande maggioranza religione tradizionale, devono convertirsi come gli islamici, a Cristo, sono lì con la croce nelle chiese, eccetera, ma molti di loro sono falsi cristiani. Vabbè, loro sono lì a sostenere le guerre dell'America, le guerre dei soldati americani in Iraq, in Afghanistan, i cristiani in America, evangelici, sono lì a sostenere le guerre americane in Iraq, quando c'era, in Afghanistan, così come i evangelici tedeschi hanno sostenuto Hitler e così via. Invece i veri cristiani vanno con l'amore, col perdono, vanno a convertire le persone a Cristo e alla salvezza. Questo è un messaggio buonissimo per le chiese cristiane tradizionali, buonissimo per gli islamici, buono, buonissimo per gli ebrei. Questo è lo spirito di Cristo, l'amore e la conversione con l'amore. Maometto invece, perché stiamo parlando degli islamici oggi, Maometto invece, lui arriva con la spada, o ti sottometti e ti taglia la testa. Beh, così non è, questo non è Cristo. Sì, però i cristiani hanno fatto guerre, mi dicono i nostri amici islamici. In Vecchio Testamento c'erano guerre. Sì, il Vecchio Testamento è finito. Quello è un periodo storico che, in quel momento lì, Dio ha pensato che era giusto. Va bene, sono in comora, distruzione. Però Dio ha messo una riga, ha detto così in Romani 10,4, la legge è finita in Cristo. Noi non siamo del Vecchio Testamento, siamo cristiani del Nuovo. Infatti ogni essere umano, se vuole essere veritiere con se stesso, ammette il fatto che ha bisogno di amore. Il desiderio nostro più grande nella vita è di amare e ricevere amore. E questo è il nostro Dio, non è una spada, non è solo giustizia. Noi ha anche tanta misericordia, anche tanto perdono. E il Dio di amore è Gesù. Sì, quando ha ucciso il nemico, che ha ucciso, che gli islamici hanno ucciso tutti gli ebrei, o viceversa, e le crociate cattoliche uccidono tutti nella Terra Santa. Cioè, così è concluso. Innanzitutto queste cose non funzioneranno mai. Le guerre violente dell'Islam si sono tutte fermate. L'impero ottomano è finito. Le crociate cristiane sono finite. Gli evangelici americani che sostengono le guerre americane in Gio per il mondo non hanno concluso niente. E invece arriva Gesù, che è molto diverso da queste ideologie evangelici, cattolici, eccetera. Cioè, c'è il cristianesimo degli uomini, con un pochino di Gesù, Borotalco, e poi c'è il cristianesimo di Cristo. Mentre la violenza e le guerre dei cristiani sono fatte in contraddizione col Vangelo. Il Vangelo insegna l'amore. E le chiese cristiane che fanno le guerre, e non sono cristiani, fanno finti cristiani. Però gli islamici che fanno le guerre sono veri islamici, che il momento ha comandato le guerre. E questa è la differenza. Perché quando uno dice, sì, ma anche i cristiani hanno fatto guerra, sì. Ma non erano cristiani, però. Invece gli islamici che fanno guerra sono islamici. L'islamico che sottomette una donna e la donna, il marito può picchiare la donna, la può picchiare così, la può picchiare cos'ha. In un tribunale la donna non ha diritti dell'uomo. Questo è il Corano. Invece nel cristianesimo no. Nel cristianesimo, Romani, Galatia 3,28, dice donne e uomini sono uguali. Poi, naturalmente, c'è a te chiese, come il Papa, la chiesa cattolica, le donne non le fa fare i preti. E questo è un problema loro. Ma nella Bibbia sono uguali. Quindi il problema dei cristiani è quando non seguono il Vangelo. Infatti sono un po' il contrario. Ma il problema degli islamici è che il Corano lo seguono. Fanno quello che il Corano dice. Sì, sì, sì. Quindi non stiamo parlando se è meglio l'islamico o il cristiano, ma saranno anche meglio gli islamici. Ma stiamo parlando di Maometto e Cristo, il Corano e il Vangelo. Ameno. Di conseguenza Gesù è venuto per la salvezza dei cattolici che hanno fatto le crociate, gli evangelici americani che sostengono i fascisti, il governo fascista di Washington, che bombarda a destra e a sinistra, compreso gli islamici. Gesù è venuto per gli evangelici nazisti. È venuto per me, per te, per ogni peccatore, per gli islamici, per gli hindù. Gesù è il salvatore di tutti. Lui ama tutti. Ameno. E smettiamo di dire che io sono superiore perché io sono cattolico. No, tu non puoi essere superiore perché superiore sono io, sono protestante. No, sono io l'islamico. Siamo tutti diretti alla morte. Dio è mandato in Gesù Cristo a dire non ci sono, come dice in Galati 3,28, dice non c'è ebreo, non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è niente. Siamo tutti diretti alla morte. È arrivato Gesù Cristo. Per l'ebreo, per il cristiano, per l'islamico. Siamo tutti fratelli in Cristo. In Cristo però. Sì, è logico, mica in Buddha o in Maometa no, perché se tu non ti sottometti ti taglia la testa. Sì. La donna non si mette in velo, c'è qualche faccino roso, infatti è famoso oggi, per esempio in Afghanistan e altri posti, passano vicino a una ragazza e gli buttano in faccia dall'acido e la distruggono. Quello è uguale a ucciderla o forse peggio. Una ragazza con un viso deturpato non la sposa più nessuno. Questa è la mentalità di certi islamici. Sì. I cristiani sono meglio, ma i cristiani sono stati anche peggio storicamente. Guarda i cattolici quanto hanno messo il rogo, sul fuoco, per il grande peccato che leggevano la Bibbia. Quindi lasciamo perdere queste religioni, ok? Andiamo a Gesù Cristo. Smettiamo di chiamarci cattolici, protestanti, islamici. Chiamiamoci, siamo creature di Dio che stiamo destinati alla morte. È arrivato uno che è risorto, comprovato. Vogliamo accettarlo. Quindi amici islamici, per favore, vogliamoci bene, amiamoci e non possiamo amarci in maometto. Non possiamo, perché se io non mi sottometto voi dovete uccidermi. Però in Cristo sì. In Cristo possiamo amarci. In Cristo possiamo perdonarci. In Cristo possiamo andare nel regno di Dio insieme. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, io prego. Amen. Grazie, Signore. Cari fratelli che ci seguite, usate liberamente questi messaggi, inviandoli agli indirizzi che avete. In questo modo potrete evangelizzare e il Signore vi benedice. Dio vi benedica, vi amiamo in Cristo. Grazie a tutti.